Se noi poniamo un quesito a destra delle tassi, le stiamo in chiave a scuola, e non ci dovessero rispondere? Sono gli avvocati, sono gli avvocati, sono gli avvocati e i sindacati. Ma è un consiglio per rendere anche pubblico. No, ma questo io non lo capisco, io dico al sindaco in quanto rappresentante ovviamente. Allora, normalmente che succede in questi casi? Che il lavoratore o il rappresentante, la lavoratore, chiedono, il lavoro di lavoro, che il lavoro vostro non si va a messo. Sono da scoprirsi di questo, il loro programmarico è il comprovvedimento comunale che mette da chi non si è a casa, dei dipendenti, a tuttora dipendenti. Ha messo anche a casa gli amministratori, ha messo anche a casa gli oggetti che avevano. Noi dobbiamo liberare questo. In caso in cui la nuova società non male costa per assumere tutti i dipendenti, il sindaco si impegna a evitare questa società, anche economicamente? Non soldi alla società non li tenevamo mai. No, 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 no 9907